Sono Sabrina dell'azienda agricola Il Frutteto, sita come sede legale a Fenisse, ma la maggior parte dell'azienda è a Saint-Pierre. Noi seguiamo molto la stagionalità, quindi in questo periodo si possono trovare le fragole, poi verso fine agosto, primi di settembre iniziamo con la raccolta delle mele. Come mele noi produciamo la Renetta, la Golden, la Fuji e la Gala. In questo momento oltre alle fragole si possono trovare anche un piccolo inizio di verdure, quindi abbiamo dalle insalate ai finocchi alla Catalogna, alle costine. Oltre a trovare frutta e verdura fresca di stagione, noi abbiamo tutta una linea di trasformazione. Noi produciamo confetture, succo di mele, aceto di mele e mele essiccate. Le confetture particolarmente sono a base di mela, che poi vengono speziate, vengono aromatizzate, un po' golose col cioccolato e un po' particolari con il Shambave Miscac, che è un vino che produciamo noi. Oltre alla produzione di mele abbiamo anche quattro etichette di vino, produciamo il Shambave Miscac, il Müller Turgau, Maiole e Cornalè. Siamo presenti la seconda domenica di tutti i mesi sotto i portici. Ci trovate anche il martedì e il sabato in Via Vevey e seguendo il sito della Coldiretti potete seguirci in tutte le località della Valle d'Aosta quest'estate, da Champolluc a Dantei, a Rem, a Tornion. Ci potete contattare al seguente numero 347 239 2101 o se no mi potete seguire anche sulla pagina Facebook del Frutteto. Vi aspettiamo numerosi!